Secondo voi, che differenza c'è tra scienza e magia? Se oggi potessimo accedere al laboratorio di un alchimista, di un mago, beh, ci troveremmo di fronte a strumenti, ad animali, a piante, minerali, necessari per compiere una serie di esperimenti che servivano all'alchimista per capire le leggi attraverso cui la natura funzionava e quindi per utilizzare questa conoscenza. Insomma, un laboratorio non molto diverso da quello dei filosofi naturali, cioè degli scienziati. Ma anche in termini di risultati la differenza tra scienza e magia non era poi così grande, perché se pensiamo ai grandi alchimisti del passato, come Cornelio Agrippa, Alberto Magno o Paracelso, beh, ci rendiamo conto che effettuarono scoperte importanti e inventarono tecnologie utili per l'epoca. Insomma, le loro conoscenze furono alla base di sviluppi che poi la scienza fece propri. Non solo, noi oggi sappiamo bene che molti di quelli che definiamo scienziati erano appassionati di esoterismo, cabala, alchimia. Abbiamo parlato di Newton, ad esempio, ma è solo uno dei tanti casi. È noto, per esempio, oggi come quasi tutti gli astronomi fossero appassionati anche di astrologia e avessero in gran parte una visione magica del cosmo, dell'universo e delle sue leggi. Se i confini non sono così netti né per quanto riguarda i risultati, né tantomeno per i metodi o i protagonisti di queste due discipline, beh, dove sta la differenza fra scienza e magia? La differenza sta nei valori che animavano queste due forme di sapere. Perché se il mago cercava la pietra filosofale, quindi cercava un sapere superiore ma inaccessibile ai più, riservato solo a lui e a pochi predestinati, se ancora la magia cercava la trasmutazione dei metalli in oro, quindi la creazione di ricchezza, che anche in questo caso era una ricchezza riservata al mago e a una stretta cerchia di adepti, gli scienziati, che partivano dallo stesso terreno conoscitivo e sperimentale, si emanciparono presto proprio in ragione di valori diametralmente opposti. Per la scienza il sapere non era esoterico, bensì esoterico, cioè condivisibile, comunicabile, accessibile. E questo perché uno dei valori alla base del sapere scientifico era l'uguaglianza degli intelletti. Tutti dopo un'adeguata formazione possiamo diventare filosofi naturali e scienziati. Non solo, la conoscenza nel mondo della scienza non è riservata a pochi, ma deve essere di tutti, con particolare riguardo per le nuove generazioni. Questo avveniva per ragioni filosofiche ben precise, perché per i padri fondatori del sapere scientifico era chiaro il fatto che il progresso non potesse essere solo avanzamento tecnologico, ma doveva anche comprendere un adeguato avanzamento culturale, morale, filosofico. Maggiore conoscenza, infatti, vuol dire maggiore responsabilità. La scienza, come diceva Feynman, aiuta a fare previsioni, non a prendere decisioni. Quindi è necessario che tutta la società progredisca dal punto di vista culturale, sia consapevole delle conoscenze acquisite, affinché il progresso possa essere trasformato in un benessere di tutti, collettivo. Altrimenti il sistema non funziona. Allora, quando noi oggi andiamo a raccontare la storia della scienza alle nuove generazioni, parliamo di sapere scientifico, è importante sottolineare questi valori, che non sono soltanto alla base della scienza, ma anche alla base della democrazia, e che sono più in generale un elemento fondamentale della nostra civiltà, del nostro sistema filosofico. Sono un ingrediente necessario in quella idea di dignità che è alla base di tutti i diritti. Ed è importante ricordarlo, perché durante la rivoluzione scientifica, per la prima volta, con una mossa controintuitiva molto distante dal mondo in cui vivevano, i filosofi naturali dimostrarono al mondo che condividere la conoscenza non vuol dire sminuirla, ma accrescerla, che il benessere di tutti garantisce maggior benessere anche ai singoli individui, e che quindi quando noi andiamo a conoscere, lo dobbiamo fare come se fossimo un unico gigantesco organismo. Grazie. 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 Grazie.